Buonasera ragazzi Paura eh? Avendo anticipato di 24 ore la live Potevano succedere disastri Tutto ok, sono qui Puntualissimo, in anticipo Stravolto, come sempre Cotto fino al midollo Si parte per il Comic Con ed è per questo che ho anticipato Ready, steady, go Tra l'altro domani O probabilmente Dopodomani E domani per chi lo guarderà su YouTube Dipende da cosa succede Con alcune commissioni artistiche Che ho fatto, che ho chiesto per il prossimo lavoro Ma ho deciso di iniziare Lo spirito dell'influencer Di anticiparlo un po', questo spirito extra In cui si chiacchiera In cui faccio l'influencer Queste cose qua da YouTube Internet in cui Se hai un seguito, le persone giustamente Con tutto il criterio che può avere Questa affermazione, questa realtà Ha un'enorme curiosità delle tue opinioni Suppressa poco ogni cosa esistente Quindi ho deciso di Giocarci Ossia effettivamente condividere ciò che di solito faccio nel privato Ossia le mie opinioni su ciò di cui non ho competenza professionale Ma Buonasera Non parliamo di nessun argomento che non sia Dark Souls Giustamente come è anche sacro che sia Grazie Buffo Però mi è sembrato che La live non abbia reagito minimamente Per quanto concerne la grafica Della donazione o sbaglio Sembra che tutti gli strumenti Che sto utilizzando Da ormai anni Stiano crollando Ed è tra l'altro settimane Che chiedo a Walter di aiutarmi nel lavoro Ma si è trasferito Ha avuto qualche ritardo Mi ha detto che tra due settimane Sarà operativo E appena sarà operativo Twitch cambia Anche senza fibra Quello lo faccio Comunque Sono i 29 Che ne pensate di Non aspettare il minuto Così non taglio su YouTube E andiamo tutti sereni e felici Perché d'altronde Stasera Avremo a che fare Con qualcosa di particolarmente noioso Ci tocca fare il lavoraccio Per me è un onore Un piacere avervi stasera Io sono sorprendentemente emozionato Dal poter vivere Un po' di serenità in live Perché per me la live È più o meno sempre uno stress A causa del fatto Che sono conscio Del limite tecnico Con cui la faccio Con cui la vivo Però Ragazzi dai Un po' di gioia Io a questo punto Piuttosto appena faccio L'animo score 2 19 Appena faccio qualche Non un qualche L'anima della discussione Che ho in mente Faccio uscire un po' di cose E poi butto Veramente a Senza essere schizzinoso A cercare anche un Un locale temporaneo Nel quale Ficcare un computer E mettere la La famigerata fiberottica Perché Ci tengo particolarmente La mia domanda è Ho già preso la chiave per Logan? Sì Perfetto Che meraviglia Oh Headshot Aia Io mi stavo Mettendo A leggere le descrizioni Santo cielo Allora Visto che non voglio Consumare le anime Cerchiamo di non morire Cerchiamo di giocare insieme Godiamocela E In questo percorso Facciamo del nostro meglio Allora Mi metto un po' comodo Avviso su Telegram Che siamo in live E dai Lasciatemi giocare Su Siete estremi Per fortuna Non siamo in Dark Souls 2 Dove i nemici sono al falò Però Oh Quasi Quasi Ok Siamo pronti Siamo Pronti Oh Chat Moderatori Così sono sicuro Di avere tutto sotto controllo Nel caso ci sia bisogno Ok Allora Sì ho visto che hanno cambiato Di nuovo La politica Per quanto concerne La La remastered Che ci sia uno sconto Importante Per chi ha L'originale È una cosa sacra Specialmente visto Il prezzo molto alto Dell'operazione Quindi Sono più che felice E la ritengo Una cosa Più che giusta Cioè Non era Obbligatorio Per loro farlo E quindi Grazie al cielo È successo Grazie a Eryn Grazie di cuore Aspettate però Fatemi fare un ragionamento Un secondo Prima che io mi faccia uccidere Oh cavolo Ma quanti Oh 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 Che è Che è quest'orda Che è quest'orda Che è quest'orda Che è quest'orda Eh ma Cici ragazzi Io qua devo essere un pochino più Devo andare un pochino più Sul sicuro Perché in realtà Tornare Tornare al Alla prigione È qualcosa Di cui Non ho Tantissima esperienza Io credo Che il portone Sia dall'altra parte Dobbiamo giocare Dobbiamo giocare Di Backtracking Attraverso I piani alti Allora Quindi continuare a salire Quanto sono fastidiosi Queste creature Dobbiamo continuare a salire Uccidere Intanto il buon Channeler Che ovviamente È fastidiosissimo Una bestia Orribile E non è morto E non è morto Mannaggia Nonostante l'arma P15 Non è morto Allora Quindi Ma se volete Vi dico una cosina Che potrà fomentare Molti appassionati E persone Però per ora Ho la priorità Di non Perdere tanto tempo In quest'operazione Perché Fare spoiler Di Infinity War Non è L'interesse Ci siamo È qua È qua Perfetto E smettila Che non lo voglio neanche utilizzare Lo scudo Quanto siete rognosi Allora Non si parla Per nessuna ragione Di Infinity War qui Tuttavia Per Placare Il desiderio Di tanti di voi Di sentirmene discutere Vi posso Grazie ai doni Grazie per i doni Intanto ragazzi Grazie di cuore Per placare Tanti di voi Che sono giustamente Molto incuriositi Dall'idea di sentirmene parlare Vi posso Spoilerare Oddio 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 Non sconnettetevi No Vi posso spoilerare Che ho fatto un video Ho fatto un video In cui ne parlo Che sarà l'introduzione Della mia nuova serie Una serie completamente Slegata da qualunque schedule In cui quando ho desiderio Quando ne sento il motivo L'istinto O la richiesta Parlo di qualcosa Che non è il mio lavoro Parlo di qualcosa Che non è il videogioco Parlo di qualcosa Che non è l'industria Quindi in realtà Argomenti di cui Non ho esperienza professionale Ma di cui Mi fa piacere condividere Il mio pensiero Perché so che tanti ci tengono È una cosa Che mi fa veramente Molto piacere Quindi ragazzi Avrete una bell'ora piena Di video che chiacchiero E sì Esattamente Come mi hanno fatto notare I moderatori In questo istante È successa una cosa strana Anche i subscriber Sono scomparsi dalle grafiche E ho risolto Prima con la chat Perché anche lei appariva Facendo ripartire Lo script Subscriber Lo devo togliere dal programma E poi Reincollarlo Stanno saltando in aria le cose Intanto Chiunque si sia iscritto Grazie profondamente di cuore Davvero Allora Allora Ok E come va Si può liberare Logan? Oh ma quante belle umanità Ouch Ouch Questo ha fatto malissimo No Fermo te Fermo Fermo Che cavolo Bestie Bestie Stacca 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 Ok Ok Mamma mia La faccia della giant armor Comunque amici Santo cielo Santo cielo E no E no Fatemi Volevo fare un per Vai sono in due Quindi i perri sono più noiosi da fare Mamma mia Io non volevo sedermi al falò Voglio tornare con l'osso del ritorno Ah Posso fare il perri? È da solo? È da solo? È da solo! Yeee Tornati a casa Allora Welcome back Motherfucker Ok Ancora aggressive? Eh lo so che l'attacco in corsa fa un po' più male Forza Stupende donne Bellissime ragazze Da qui in poi Effettivamente Non servirebbe più Il 15 intelligenza Per poter parlare con Logan Allora Sì ti capisco bro Grazie Zavo Grazie di cuore Se sto facendo il cazzone stasera E mi beco anche dei doni Grazie Grazie di cuore Ok Allora Tornando a noi Ora possiamo recuperare un po' di belle caratteristiche Con gli achievement Sto bene Nel senso che in realtà li prenderemo quasi tutti contemporaneamente Unknown A lui è Tonno Che è diventato un channeler È incredibilmente divertente È incredibilmente divertente secondo me Riuscire a creare questo legame con alcuni iscritti Ma finché non ho la fibra ragazzi Non continuate a farlo Mi dispiace Nei vostri confronti Mi dispiace per voi Allora Logan Da lui Dobbiamo Apprendere Dobbiamo apprendere tutti gli incantesimi Quindi Zack 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 Convocato a fantasma Fantasma Thad Ah non è lui Interessante Ok tu Ok non c'è niente da comprare Questo è un dettaglio Narrativo Veramente importante Ma Oh Aspetta Ehi Thad Quell'arma mi serve Quell'arma mi serve Thad Non vorrai mica farmela farmare No Oh Ma è barare Grazie Stavo scherzando Ne hai due Ehi Non sarai mica un cheater tu vero Chissà Chissà Hai riparato l'arma quindi no Non stai barando Grazie Grazie mille Apprezzo profondamente Beh andiamo a picchiare Sifil Senza scaglie Allora Visto che comunque La quest è finita Citi Citi Meraviglioso Meraviglioso Quanto apprezzo Questo stupido Dettaglio Ci hai risparmiato Mezz'ora di chiacchiere In live Senza motivo In teoria Non si dovrebbe fare Ma in questa platinum run Mi va bene Mi va bene Ehi Thad Non è che per caso Hai una bellissima spada Dei cavalieri d'argento Allora Vediamo se riesci a starmi Se riesci a tenere il basso Facciamo una speedrun della caverna Su Thad Mi raccomando Non voglio vedere il tuo spettro Morto senza motivo Oh ma quanto è divertente Giocare insieme Quanto sarà bella La nostra vita In multiplayer E le nostre serate Di condivisione Quando avrò Uno strumenti adeguati Ho sentito un brutto suono Thad Non sei morto Vero Thad Non sei stato al passo Mi sento terribilmente In colpa Adesso Mi sono Mi sento in colpa Mi avrebbe Mi sento in colpa Mi sento in colpa Perché Forse era una persona Non pronta Per fare questo terribile Passo Detch Grazie Benvenuto Io Sono Avvilitissimo per lui Non meritava tale destino Poverino Pay F to pay respects Esatto Santo cielo Sono Avvilitissimo No Eroe Anche perché lui Ci avrebbe Baffato contro Sith Sarebbe stato Fantastico Combatterlo Oh Ouch Ehi Lo ricordo quel pugno Così Così Questo è pericoloso Da fare qui E Via Oh ragazzi Grazie Simon Grazie a tutti coloro Che si sono messi a donare E a Iscriversi Io ero coinvolto Dalla vostra Partita insieme E Boom Tripla kill Questa è una delle cose Più rare In Dark Souls E' incredibilmente difficile Fare quella tripla kill Ed è spesso Fastidiosissima 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 E no Niente è andato Quanto ci divertiamo in chat Big Frank Grazie Grazie di cuore Allora Visto che non voglio fare più tentativi Per quanto concerne il combattimento di Sith Il senza scaglie Facciamo un po' di lavoro qua Ehi Ti ho mancato Oh Eh sì Siete forti Siete forti Grazie Saracinesca Benvenuto Tu sei nuovo Sono molto contento Allora Qualcosa da fare in Monster Hunter Mi piacerebbe molto L'unica cosa che un po' mi intimorisce Aia L'unica cosa che un po' mi intimorisce E La linea Che non è Aia Che non è pronta Diciamo Non è Non è pronta Per fare certe cose Potrebbe essere Brutto da vedere Potrebbe essere brutto da vedere Però spero di no Spero davvero di no No La pietra purificante Non mi serve No Non è la Remastered C'è C'è una Remastered C'è C'è un lavoro Di upscale Delle texture Perché Oh no Allora Facciamo una bella cosa Visto che ne abbiamo A grade 3 E non ho intenzione Di rischiare Non mi prenderete mai Vivo Non seguitemi Non se Oh no Sono troppo vicine Entreranno nella nebbia Entreranno nella nebbia Entreranno nella nebbia No Forse no Ok Ok Beh in realtà Ah non ho il buff È incastrato? È incastrato? Si è buggato Sif Si è buggato Sif Guardate Non riesce Non riesce a superare Ah ora lo sta facendo Ok Ci ho creduto Per un momento Fantastico Fantastico Eh già Lo senti Sif? Fa male? Ah Ai 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 Sif Il framerate Senza scaglie Il framerate Mi raccomando Eh sì Non è sta gran strategia Sif Sei un po' I quattro re Senza Senza rinforze Ehi Non dovevi mancarmi però È morto? Eh sì Bravo Give me your soul Sif Sif il senza framerate Ragazzi Siete adorabili Allora ok A questo punto A questo punto Facciamo un paio di mosse La prima È andare Di nuovo Agli archivi del duca A che livello sono? 117 Sono ancora nel meta Sono ancora nel meta Poi Ciao bro Chi sei? Come osi disturbarmi? Stai diventando vuoto Allora Sono i new game plus Sono i new game plus Non plus plus Ora Vale la pena Effettivamente Portare destrezza 40 E stamina anche Ci arriviamo Sarà la nostra build finale Da lì in poi Avremo finito Queste 77 mila anime Le teniamo Perché ci possono essere utili Per un paio di cose Ora Santuario del legame del fuoco Dobbiamo Per essere sicuri Di fare le cose Decentemente In teoria potrei farmare Un po' di titaniti scintillanti O comprarle Però Per ora Non mi interessa Non mi interessa Piuttosto Sav Usa qualche arma Di boss Sì in realtà È un'ottima idea È un'ottima idea Camera della principessa Sì L'esatto Stavo pensando ad Isalith Perché se vado ad Isalith Gli incantismi di Dalogan Non li prenderò Nel New Game Plus Plus Gli incantismi di Dalogan Li prendo adesso Ma questa Andando benissimo Esattamente Qualcuno ha indovinato Sì penso che la cosa migliore Da fare per gioco Adesso sia La La lancia di Ornstein Per essere originali Per fare quelle cose Un po' da paxerelli No Non vorrei Onestamente no Onestamente Detto Sulla punta Dell'unghia Non voglio Una remaster Di Demon's Souls Voglio un remake Di Demon's Souls Che cosa Non fare Non sbagliare Le mosse Non ti ho detto Di bere la Estus Ora dovresti bere la Estus No Lo scudo della farfalla Era barato Ma Nella 1.0 Sarebbe da fare Nella 1.0 Una run Scudo della farfalla Qualcosa Qualcosa che farebbe Scalpore Per chi non conosce bene Dark Souls Sarebbe giocare Con lo scudo della farfalla Nella 1.0 Ah certo La falce La falce divina Bah sì 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 Stiamo giocando un po' Per ora facciamo una bella Una bella lancia Figa Allora Per fare una bella lancia Figa Partiamo da questo presupposto Prima Dobbiamo Potenziare Ah no Che sciocco Che sciocco Non ho pensato Non ho pensato All'ovvio Dovemo prima Prendere la larva Allora Cassa senza fondo Armi Andiamo Alle lance Ecco qua Lancia Del fulmine Perfetto Poi andiamo Da Norlondo No Camera Da principessa E appena Fatto questo gesto State a vedere Ci divertiamo un po' Yo bro Wuh Ehi Ho 37 a stamina Non basta Evidentemente no Non uso La lascia La lascia Del Demone Del Non del demone di ferro Del Del golem di ferro Perché è solo forza Ragazzi Lo scudo della farfalla È una merda Nella 1.09 No Bocciatissimo Allora Per prima cosa Potenziamo l'arma E rendiamo La lancia Del fulmine Più 5 La rendiamo Più 5 Per quale ragione Oh Shit Ci manca Ci manca una Ci manca una Lastra Se ci manca una Lastra Dobbiamo davvero Far bene La La quest Di Zygmire Ci manca Bene Ci manca Quella Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve E allora Facciamo una cosa Molto simile Grazie Jacobs Pan di zenzero Ho un'altra Vediamo La lancia del demon è figa Però è meno È meno originale È utilizzata moltissimo Perché ha un grande valore Di attacco E non è strana Come la lancia di Onstein Che utilizzerebbe tutte le nostre caratteristiche Al meglio Allora Tu vendi per caso Una lancia Una picca Credo che la picca basti Per fare la lancia di Onstein Credo che la picca Vada benissimo Potenzial arma Potrei fare una gaff Ma non credo Dovrebbe essere Perfetto Allora Potenzial arma Picca Diciamo che la meccanica Di potenziamento Di creazione Delle armi dei boss È molto poco intuitiva In In Dark Souls 1 Non è proprio Fluido fluido Aia Titanite grande Che palle Che palle No 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 Oggi non vado solo Di completismo armi Il completismo armi Sarà molto noioso E lo faremo tutto In un tuffiato Eh lo so che le vende Il fabbro gigante Ma non mi va di tornare Non mi va di tornare A A Danor Londo Non ne ho voglia Ciao merodone Meno chiacchiere Più lava Esattamente Ah Mirai Nikki Sì conosco Il caos Conosco Mirai Nikki È una serie Molto banale Semplice Con un Bel colpo di scena È una delle cose Che più mi dà fastidio In una scrittura Una cosa che mi dà Talmente tanta frustrazione Che la detesto È proprio una stupidata Imperdonabile Che reputo Spazzatura Della peggior specie Ossia quando Ambienti Una storia In un mondo reale In un mondo coerente All'interno Della nostra cultura E poi crei Dei personaggi Deformi Con proporzioni Sbagliate Che convivono Naturalmente Con gli altri È disgustoso È disgustoso Più nove Più dieci Perfetto Camera della principessa La Shenmue HD Collection Mi interessa moltissimo Perché io non ho avuto Un Dreamcast Da piccoli Non si poteva avere scelta Di cosa si acquistava E ovviamente Sono stato una Delle persone Che è stata Causa Della fine Di Dreamcast Ero uno di quelli Che pensava bene bene Di comprare solo La Playstation 2 Visto che non poteva scegliere E non avendoli potuti giocare Aia Ho un grande Grande interesse Nel giocare Qualcosa che sono sicuro Sia Invecchiato molto 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 male Ma che fa parte Della storia Del videoludo E mi sarà molto utile Anche per il lavoro Lo scudo Della farfalla Era rotto Perché Aveva Un valore di attacco Con il suo attacco speciale Che era Perfettamente proporzionale Alla caratteristica Del personaggio Quindi facevi Due Tremila danni Con un colpo E shottavi il boss Era Ecco Era completamente Sbagliata Lancia Dell'ammazzadraghi Perfetto Grazie E ora Potenzia Potenzia arma Lancia Dell'ammazzadraghi Più uno Eh ci siamo preparati Più due Più tre Più quattro E Più cinque Oh yeah Come back soon E ora 5,5 10 Aia Siamo ancora in midroll Si Fantastico Ragazzi Prepariamoci A divertirci Tantissimo Nuova arma Più cinque Boss finale Cioè boss finale Arma di boss Allo stadio finale Vediamo un po' Adesso Appena ci teletrasportiamo Alla figlia del caos E vediamo un po' Eh si Questa lancia i fulmini Perfetto Yes Capito Dark Souls 2 Così si fa Ok Allora CBB Attacco 483 Split damage Fisico Fulmine Figata Ok No no Per il platino Non c'è nessun bisogno Di avere le armi potenziate Non è Non è importante Avete visto 400 mila anime Come siamo state Come sono state ben sfruttate Allora Ora Andiamo rapidi rapidi A fare due cose importanti La prima La prima È recuperare Il tizione di fuoco grande La seconda Quest di Ziegmeier E Aspettate Un momento Non farò lo stesso errore Due volte Non farò lo stesso errore Due volte Andiamo un po' avanti E poi facciamolo Allora So cosa fare stasera con voi So cosa fare Beh la quest di Logan Per andare avanti Deve morire un boss Quindi Ascoltatemi Nonostante la mia memoria Abbastanza buona In Dark Souls C'è un equipaggiamento Che non ricordo Dove si recupera So che è a Petit Londo So che lo trovi Attraverso un'uscita Dell'edificio Qualcuno di voi in chat Si ricorda Con una certa decenza Dove si trova Agevolmente L'arco composito Perché è uno stronzo Che non ho quasi mai preso Negli anni E quindi Non bisogna giocare La Metal Gear Saga In ordine cronologico Degli eventi Bensì In quello Aia Bensì quello di release Beh Non ti ho fatto Uno scambio di danni Molto soddisfacente Ah però almeno E beh Almeno Cavolo mi sono perso i commenti Sul balcone dell'entrata Dalla valle dei draghi Ci succede molto facilmente Sul balcone dell'entrata Aperito l'entrata Dalla valle dei draghi Ah Forse ho capito Forse ho capito Sì 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 Balcone vicino alla Ah certo Ho capito Sì 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 Ok 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 Ahia Minchia oh Che toro eh Che toro Kirk Damage output No il tuo acido Non mi piace Niente male questa lancia eh Guardate che bei danni in corsa Che fa Eh ragazzi Un simbolo rosso È qualcosa di prezioso Ma con due secondi di lag Non posso evocare nessuno Anzi è scomparso Purtroppo Quello è un limite Che non posso battere Mi dispiace molto Cambierà eh Cambierà Promesso Lo prometto anche a me stesso Insomma Cioè può sembrare Strano a dirsi ma Vale molto più per me Che per voi Per me è molto più importante Fa parte della mia vita In maniera centrale Sì sì Siete proprio spaventosi Certo che me lo ricordo Dexter Quando sconfissi Il demone di fuoco Con il martello di Vamos E uh Wow Aia Allora uno è caduto Tu no? Con chi credi di avere a che fare? Eh? Eh 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 Guarda che non sei forte Sì bello away Ah ah no Ha fatto tracking Maledetto demone Anche voi avete questo potere? In Dark Souls 2 si sono allenati molto a riguardo Mi ha ucciso per il doppio danno Mi ha colpito l'arma E ho preso anche la OE Mi sento sconfitto Mi sento molto Gravemente sconfitto Dai è un merdone lui Non me Più che altro Minchia la difesa fisica comunque Ok? Direi che sono più quattro Però Wow Wow bro Nope Oh Inquadratura Ragazzi Non vedo Bene Grazie Grazie Gitbull Salta Salta No Ciao ragazzi Lasciatemi stare No 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 Arma a rischio Ovvio Ma io sono più furbo di voi E non voglio combattervi Allora Ok Detto ciò A questo punto Possiamo Far avanzare La quest di Logan E contemporaneamente Andarci a prendere il Che è male Andarci a prendere il Povero 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 Poverissimo Soler Sì sì farò il Platino di Bloodborne Sarà un piacere per me Wow What What Ma l'armatura dei giganti Che me la sono messa a fare È il New Game Plus Dark Souls È il New Game Plus 1 Ho l'armatura dei giganti Completa più 4 Mi manca l'elmo In effetti E ho capito Però insomma Quanti HP ho Tanti no? No Ah è vero Ho vitalità bassa Ho 25 vitalità Ma certo Ecco perché Ho pochi HP Alla상 E tutto a senso adesso Mi sembrava strano Non avevo questi ricordi Di danni Incredibili E certo E certo Ok Ok Ora ho capito Ouch Leave me be Uh beh Quanti danni Vola vola ti prego No Ok R2 caricato incoming Attacco caricato Oh no Volevo vedere i danni che faceva Voglio vedere i danni che fa Ti prego Dai ti prego Ti prego vola vola creatura Vola No No Oh oh Ouch No stronzo Stronzo Dai Vola un po' No Ehi Esplosione in faccia no Dai ti prego Ok Ok Ah non faccio in tempo Ancora Vola Vola Ma hai sentito parlare del damage output comunque con le mie caratteristiche Sei resistente eh Stronzetto Ok 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 Ora mi shotterà Ora mi shotterà Ma glielo faccio glielo faccio No Ma che cavolo Beh Non riesco a coprire con quell'attacco Basta È normale che alla fine mi cado Oh oh Aia le spalle Sto finendo l'estus con questo merdone No 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 Aia Oh no Baby Oh boy Basta Ah bene Ok dai Almeno abbiamo vinto Eh Non è detto Oh Suka Ciccione Grazie Posso? Oì Fatemi passare Non ho raccolto l'arma Lo so Ma non ci frega qualcosa? No Non ci ne frega niente Ok Lo prendiamo dai Va bene Ah L'ho dimenticato anche New Game Ok Ora Ora si spiega tutto L'importante per me Era prendere L'ascensore Perfect Adesso 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 Invece Dobbiamo Passo 1 Passo 1 Andare Al santuario del legame del fuoco Delice Chao Adesso Do Agua Dice No Ero Ero Davide